Noi non vogliamo scuse, è chiaro che alla terza partita in sei giorni quando devi rinunciare a 12 giocatori diventa difficile, però portiamo a casa quello che di positivo c'è, che la squadra comunque sull'1-1 era in partita, anzi in quel momento dava l'impressione di averne, avevamo in campo 2-2001 di serio e pastina, per cui questa deve essere una grande soddisfazione. È chiaro che abbiamo preso il gol del 2-1 che ha cambiato la partita, un po' da polli, siamo un 4 sulla palla, è un gol evitabile, questo è il rammarico della giornata, al di là della loro forza, perché dopo abbiamo avuto anche la palla del 2-2 con Improta, che gli è stata tolta da Glick che non l'ha visto, poi la squadra è andata in avanti e poi loro mettono muri, dei cambi incredibili, il passivo probabilmente è troppo pesante per quello che la squadra aveva dato, però ci sono tante cose positive, portiamocene a casa e pensiamo adesso recupereremo qualche giocatore, avremo 8 giorni perché la squadra ha dato tantissimo e adesso deve recuperare. Sì sì, l'Atalanta è fortissima, però oggi fa un po' poco testo, prima mi chiedevano la Juve, noi quelle partite le abbiamo giocate quasi al meglio, oggi abbiamo cercato, abbiamo cercato, però la squadra ci ha provato, il primo tempo è stato difficile, poi insomma ho pensato di modificare qualcosa, avremmo giocato così dall'inizio se ci fosse stato Tuya, non volevo mettere passi nel fulone insieme, perché insomma contro Illic, Zapata, mettere un 99 nel 2001 è un po' mandarli allo sbaraglio, a me non piacciono queste cose, però poi quando fulone era stato ammonito ho pensato di cambiare, infatti effettivamente secondo tempo eravamo un po' più compatti, pressavamo meglio in avanti, l'Atalanta aveva perso anche un po' di energie e noi c'eravamo, io devo dire che dalla panchina sull'1-1 ho avuto la sensazione di potercela fare, questo è rammarico, però se è successo questo con i ragazzini in campo contro una squadra che è in un momento straripante, che l'anno scorso ha rischiato di andare in finale di Champions, hanno dei cambi di una forza, un campo che sicuramente agevolava anche la loro forza, sono una grandissima squadra, però noi ci sono tanti aspetti positivi, che sono quelli della classifica, sono del coraggio della squadra, i ragazzini che sono entrati oggi, devono essere un grande vanto per noi. Sì, sì, settimana speriamo, è chiaro che sono giocatori fuori da un po' di tempo e dovranno trovare la migliore condizione, però sono guariti, sono guariti, insomma penso che Iago Falca e Viola saranno col gruppo, rientrerà a Caldirola, insomma vedremo Teio, vedremo Moncini, insomma dobbiamo cominciare a recuperare un po' di energie, Caprare oggi l'abbiamo perso all'ultimo perché non si sentiva sicuro, ho preferito non rischiarlo, era inutile, però se no avrebbe giocato lui, anche Sau avrebbe tirato il fiato, anche Sau aveva giocato tre giorni fa, la Padula, poverino, non possiamo mai farlo recuperare, adesso per fortuna arrivano questi otto giorni e avremo fino a martedì per recuperare un po' di energie e qualche giocatore. Vabbè, se no non avremmo questi punti, non avremmo fatto tutto quello che abbiamo fatto in questo anno e mezzo, oggi la squadra, insomma Sau sapevo che doveva giocare il secondo tempo, gli ho chiesto un sacrificio perché non avevamo nessun altro, però è stato bravo, ma sono stati tutti bravi, insomma, dicevo prima, il nostro orgoglio di più grande deve essere che comunque abbiamo dei 2001 molto bravi, abbiamo tenuto testa l'Atalanta finché abbiamo potuto, anzi, in un momento della gara c'eravamo veramente in controllo e lì probabilmente dovremmo essere un po' più scaltri, però tutto ci aiuterà a crescere ulteriormente e adesso, come dicevo prima, insomma, la nostra grande partita è domenica e cercheremo di prepararla al meglio, avremo tempo per recuperare un po' di forze, qualche giocatore e andremo a giocarcelo al massimo. Sì, sì, no, no, io sono perfettamente d'accordo, però insomma, quando dobbiamo giocare dei ragazzi molto giovani dobbiamo mettere in preventivo qualche errore, ma io non mi preoccupo, vado avanti, li faccio crescere e ci daranno soddisfazioni, per cui se abbiamo preso i primi due gol, ingenuamente, vabbè, sapevamo che va a correre questo rischio, ma aver fatto comunque esordire certi giocatori e far giocare i giovani penso che nel momento di emergenza totale vada fatto perché bisogna dargli fiducia e comunque ci portiamo a casa delle belle prestazioni. Sicuramente, è chiaro che se avessimo avuto, insomma, tu e Letizia avremmo giocato in un mondo diverso, però a volte le emergenze ti fanno anche scoprire cose importanti che poi magari ti serviranno durante il campionato e abbiamo dato la possibilità a Pastina di farsi vedere, di esordire in Serie A e per me ha esordito molto bene, con grande personalità, è un ragazzo che ha calcio, ha fisicità, e magari non l'avremmo potuto vedere se non fossero arrivati gli infortuni. Meglio che non arrivino, ma se arrivano in quel momento è giusto anche dare spazio a dei ragazzi che si allenano bene. Io sono contento per loro, per Fulon, per Pastina, per Di Serio, insomma, poi sono due ragazzi italiani del 2001 e giocare con questa personalità, con questa voglia. Io non ho problemi a metterli perché mi fido di loro e sono felice anche per il settore giovanile perché penso che sia un bel vanto per il Benevento, insomma, aver fatto esordire questi ragazzi così giovani. Sì, sì, meritatissimi, meritatissimi. La squadra ha fatto una grande fatica, hanno giocato quasi sempre gli stessi, erano sfiniti. Adesso dobbiamo recuperare energie, come dicevo prima, qualche giocatore e poi andremo a giocarci la nostra finale a Crotone.